Questo incontro è importante per parlare delle opportunità per le aziende e imprese abruzzesi nel mercato svizzero. Quali soprattutto le occasioni per le nostre aziende? Innanzitutto il focus di oggi è su due settori in particolare, agroalimentare e meccanica. Sono senz'altro due settori per i quali il mercato svizzero rappresenta uno sbocco interessante anche per le imprese abruzzesi. Siamo in un mercato ricco, vicino, quindi presenta molte facilitazioni per le nostre imprese. Già partiamo da un posizionamento buono perché la Svizzera rappresenta il decimo mercato per le imprese abruzzesi per quanto riguarda le esportazioni. Però c'è ancora molto da fare perché è un mercato abbastanza difficile dove c'è bisogno sicuramente di non presentarsi singolarmente, dove c'è bisogno di un accompagnamento professionale. La Camera di Commercio di Chieti Pescara attraverso la sua agenzia di sviluppo e soprattutto la Camera di Commercio di Anar per la Svizzera con cui abbiamo avviato questa collaborazione può essere senz'altro un partner importante per le imprese abruzzesi per approcciare nella maniera giusta questo mercato. L'iniziativa di oggi si inserisce in un nuovo piano per far sì che più aziende possibili possano entrare nel mercato svizzero? Senz'altro il nostro interesse è quello di ampliare le imprese esportatrici, migliorare i tassi di esportazione dell'impresa abruzzesi cercando di trovare gli sbuchi giusti soprattutto per quei settori che sono potenzialmente più importanti per le esportazioni. Partendo dall'Europa prima di guardare ad altri mercati e ad altri continenti sicuramente è più facile approcciare il mercato europeo e un mercato come la Svizzera in questo caso.